Olivia Newton-John, il Crystal History delle 8, wow, comunque grazie all'ufficio programmazione che ci dà sempre grandi pezzi. Bentornati a Good Morning Milano, 8.08, 20 marzo, primo giorno di primavera, mi ha scoperto grazie all'anno Business Steel, effettivamente non avevamo fatto i conti, quindi ringrazio sempre chi da casa ce l'ha ricordato. Stiamo parlando oggi di un po' di tutto quello che succede nella città di Milano, un po' come sempre diciamo, e c'è un appuntamento interessante, il 23 di marzo è il Festival del Made in Italy. Appena ho letto questo ho detto, sapete che c'è, non voglio neanche leggere cos'è, chiamo subito chi lo organizza così almeno mi spiega bene lui. Ed ecco con noi, infatti, Giovanni Broca. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Faccio prima, capito, quando dico una cosa che dico, ma potrebbe sentire interessante, non sto neanche ad approfondire, ti chiamo subito così me lo dici tu bene che cos'è, il Festival del Made in Italy, casualmente a Milano, non è proprio un caso poi forse. Non è assolutamente. Che cos'è questo Festival, Giovanni? Intanto grazie per avermi invitato e soprattutto per la curiosità. Il Festival del Made in Italy è organizzato da Eccellenza Italiana, che è una community... Di cui tu sei il co-founder di questa community. È una community nata sui social e che comunica principalmente a un target molto giovane, per cui tutti i ragazzi sotto i 30 anni. E quello che noi vogliamo fare tramite questo Festival è promuovere il ricambio generazionale all'interno dei principali settori del Made in Italy. C'è questo grosso problema proprio nei settori di moda, design, automotive, agroalimentare, che sono poi i settori in cui l'Italia è vista come un'eccellenza in tutto il mondo, e che hanno bisogno di rinnovarsi, hanno bisogno di forze nuove, hanno bisogno che i giovani, i ragazzi si interessino a questi settori e decidano anche di percorrere questa strada, questo percorso lavorativo. E noi tramite questo Festival quello che vogliamo fare è mostrare ai ragazzi cosa sono le eccellenze del Made in Italy per cui portare i giovani artigiani come modelli ispirazionali per i ragazzi, perché quello che noi pensiamo è che questa mancanza di ricambio generazionale sia soprattutto dovuto a proprio un racconto sbagliato che si fa del settore dell'artigianato e della manifattura italiana. I ragazzi non hanno un modello a cui ispirarsi, che vedono come figo, come cool, per seguire le orme appunto di questi settori per cui della moda, del design, dell'agroalimentare, dell'automotive. Quello che noi faremo al Festival è portare questi modelli, portarli sul palco, far vedere ai ragazzi cosa significa fare l'artigiano o cosa significa lavorare in un'azienda Made in Italy e noi speriamo che questo sia un po' il nostro apporto. Perché appunto questo che ti raccontano tu arriva anche, si evince anche da dei dati, dai dati dell'Inps, che dicono che dal 2012 al 2022 sono stati persi oltre 300.000 artigiani in circa. Oltretutto abbiamo anche preso una elaborazione dei dati fatte da CNC Media che ringraziamo, che dice appunto che è una diminuzione praticamente su tutta la scala, su tutte le regioni italiane, con però una maggiore concentrazione nelle regioni del nord. E tra le cause appunto che si evincono sul fatto che ci sono pochi che seguono questa strada, una di quelle appunto è le nuove generazioni, le nuove generazioni non sono attratte da questo tipo di lavoro. Quindi benvenga appunto un festival che cerchi di far capire invece che ci sono possibilità di bel lavoro, anche di guadagno, ben remunerato. Assolutamente, ma infatti è un preconcetto che c'è, è un racconto anche sbagliato che se ne fa di questo tipo di lavori che si pensa che siano poco pagati, numero uno, ma anche socialmente poco posizionanti all'interno della società, quando in realtà comunque fare uno di questi lavori porta grandi soddisfazioni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista personale proprio. E allora bene, io ti chiedo l'ora di rimanere qui con noi ancora, che andiamo avanti a parlarne tutta la mattina insieme ancora, ma prima ovviamente mandiamo un po' di musica. Stiamo parlando di Il 3 con Fragili, direttamente da Sanremo, direttamente qua su Crystal Radio. Il 3, Fragili. Good morning Milano. Il 3 con Fragili. Stiamo parlando del Festival del Made in Italy che vedrà la sua luce il 23 marzo al Talent Garden Calabiana. Abbiamo parlato che tutto nasce, potremmo chiamare anche il Festival della Resilienza, perché c'è un problema e lo risolviamo. Gli artigiani sono pochi, pochi si affacciano al Made in Italy, bene, vi facciamo vedere che invece c'è bisogno di affacciarsi. Questa riduzione di cui parlavamo, che cosa significa per una città come Milano? Beh, diciamo che Milano è toccata proprio da vicino da questo problema di ricambio generazionale. Basti pensare che i due eventi che sono più famosi a Milano e che la rendono il centro del mondo sono il Salone del Mobile e la Fashion Week, che sono proprio la massima espressione di quello che è il design e la moda. Ovviamente questi due eventi si portano dietro a tutto un settore che arriva dalla Grande Maison fino al Piccolo Sarto. Ovviamente è un grosso settore che ci fa vedere al mondo come un'eccellenza italiana che porta ovviamente turisti a Milano, ma è che è anche un settore che oltre che degli eventi ha bisogno proprio di una nuova comunicazione soprattutto ai giovani affinché percorrano questo tipo di strade lavorative. E allora, Ponte, gli ai cittadini mi hanno anticipato la domanda che volevo farti dopo, ma te la faccio subito. Giovani, futuro dei giovani, come si può fare a pensare a un futuro nel Made in Italy già magari dal percorso formativo, dal percorso delle scuole? Cioè si può pensare già di fare quel percorso lì. Qual è il percorso adatto? Diciamo che ci sono noi in questi mesi abbiamo visitato tante scuole che secondo me sono un'eccellenza per la formazione in questi settori che mettono subito il ragazzo a contatto proprio con la parte progettuale, fanno comunque mettere in mano diciamo proprio i prodotti. Sono poche perché c'è ancora a parer mio un problema con l'orientamento sia alle medie che poi alle superiori per i ragazzi, i quali quasi sempre scelgono un certo percorso lavorativo. Perché? Perché si pensa che magari quel ragazzo non è tanto bravo a studiare, allora deve andare a fare un percorso professionistico, professionale, eccetera, eccetera, eccetera. Ah sì, sì, ne abbiamo visti bastare tanti qua da Good Morning Milano, che fanno il PCTO ad esempio. Esattamente. Di gente che secondo me doveva diventare Nobel per la letteratura, altro che, ma che poi invece no, no, vabbè a fare il professionale che è una roba... e invece vengono quasi viste di mal occhio e si investe poco anche in questo tipo di formazione soprattutto. L'investimento è interessante perché effettivamente sono scuole che invece, anzi, quando poi le fai, le fai bene, esci che sei un'eccellenza anche tu, sei un'eccellenza italiana. Assolutamente. Ma basta pensare che quelli che noi adesso vediamo come i massimi esponenti del Made in Italy, da Enzo Ferrari a Armani, erano persone che mettevano mani ai propri prodotti, no? Sono persone che avevano una spiccata manualità, per cui gli istituti professionali o scuole che ti portano subito a fare esperienza nella manifattura e nell'artigianato... Le scuole di mestiere ci sono anche, vero? Sono, ecco, devono essere promosse e anzi sostenute affinché ci sia un continuo ricambio in questi settori, se no non ci saranno più un Enzo Ferrari, un Del Vecchio o un Armani. Eh, infatti, chissà se ci saranno ancora, ma ci saranno, vero? Perché voi li vedete poi qualcuno, no? Cioè, ci sono questi qua, no? Difficile trovarli, ma ci sono, no? E anche questo, magari appunto, nel Festival del Made in Italy potrà magari uscire fuori moda, motori, cibo, va bene? Questi sono i Made in Italy che tutti conosciamo, ma qual è il Made in Italy che non ti aspetti? Avete trovato qualcosa in questi anni? Eh, noi su, proprio su Eccellenza Italiana abbiamo una rubrica che si chiama Pillole di Made in Italy. In questa rubrica andiamo a trovare un po' tutti quei Made in Italy che appunto non ti aspetti, ce ne sono tantissimi. Io penso che più che di Made in Italy bisognerebbe parlare di sa per fare italiano. Cioè, è vero che il Made in Italy è un bel marchio internazionale, ma quando dici sa per fare italiano è quella la vera eccellenza. Noi abbiamo, diciamo, la nostra forza è il sa per fare. In diversi campi, a livello progettuale, abbiamo una visione sul mondo e una modalità di mettere mano proprio agli oggetti, modificarli, innovarli, che è tipica proprio di italiano e della nostra eccellenza. Abbiamo tantissimi, per esempio il traduttore simultaneo usato dal Parlamento Europeo, che traduce 24 lingue in modalità simultanea e le scrive, è italiano. Ecco, vedi? Questa è un'eccellenza. Ecco, è una grande eccellenza, è una grande eccellenza. E allora continuiamo a parlare di eccellenza, possiamo parlare di Made in Italy subito dopo un'altra canzone. Stiamo parlando di Clara con Diamanti Grezzi. Clara Diamanti Grezzi. No, Diamanti non sono un'eccellenza italiana, quella no. O siamo anche in quella filiera? Beh, sicuramente sarà qualcuno che ci lavora. Sicuramente avremmo inventato qualcosa anche lì. La voce che avete sentito è quella di Giovanni Brocca, cofondatore di Eccellenza Italiana, che è organizzatrice di Festival del Made in Italy. Ricordiamo bene quando è e come far venire, perché poi abbiamo una piccola pausa, però abbiamo un minutino per dare proprio le coordinate e poi torniamo ancora a parlare di chi e cosa ci sarà il Festival. Sì, il Festival del Made in Italy del 23 marzo, per cui questo sabato, avrà luogo a Talent Garden Calabiana e inizierà alle 9 del mattino fino alle 8 di sera e ci saranno tantissime attività. Nella parte di hub centrale ci saranno un po' le nostre rock star, gli artigiani, giovani artigiani, che faranno vedere proprio ai ragazzi come fare un prodotto di alto artigianato. Addirittura ci saranno dei ragazzi di Murano che faranno vedere la creazione del vetro di Murano live. Wow. Qui ci saranno i forni, avverto tutti. E una parte invece poi di palco, dove si parlerà di Made in Italy con i maggiori esponenti, gli ambasciatori del Made in Italy nei settori di moda, design, agroalimentare e automotive. E tutto questo appunto sabato 23 marzo al Talent Garden. Bisogna iscriversi sul sito, come funziona? Il sito festivaldemadeinitaly.com, ci si potrà comprare i biglietti e registrare. Perfetto. Perfetto. E allora adesso invece andiamo ancora un attimo in musica e in pausa, ma poi torniamo qui perché voglio capire chi viene, cosa vedremo. Oltre al forno, ho già parlato del forno, già mi interessa questa cosa qui del forno per i Murano, giusto? Assolutamente. Le vetrerie di Murano, insomma, interessanti sono quelle, sono appunto le famose eccellenze di cui parlavamo prima e questi lavori che, insomma, abbiamo detto 300.000 artigiani persi dal 2012 al 2022, magari con il versetto del Made in Italy riusciamo a invertire questo trend, non sarebbe per niente una brutta idea. Avanti con la musica, adesso Tom Walker con Head Underwater. E poi torniamo qui, sempre qua, a Good Morning Milano. L'ora è da Maberte, pazza, 8.33 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Stiamo parlando con Giovanni Brocca, co-founder di Eccellenza Italiana del Festival del Made in Italy, 23 marzo, sabato 23 marzo, al Talent Garden Calabiana. Allora, prima ci dicevi che troveremo anche dei soffiatori di vetro, giusto? Ma non solo, sono rimasto su quello. Allora, l'unica cosa che mi può distogliere l'attenzione in questo momento è se mi dici che c'è anche del cibo. C'è del cibo, ci sarà del cibo. Ecco, basta, ciao, ciao a Murano e Burano, adesso sono sul cibo. Ah, c'è anche del cibo? Sarà anche del cibo, ci saranno tante sorprese, tanti ospiti e soprattutto anche tanti artigiani giovani. E questa è, secondo me, un po' la sorpresa perché un po' tutti noi abbiamo questo immaginario dell'artigiano vecchio. Mi nomi all'artigiano, infatti ho quell'idea lì, infatti. E invece ci saranno tanti artigiani giovani che in particolare sono famosi anche sui social, per cui sanno anche comunicare bene con i ragazzi più giovani e che mostreranno proprio dal sarto al calzolaio come effettivamente si può diventare artigiano ancora oggi e si può farlo sfruttando le nuove tecnologie. La buona faccia dell'influencer, mi stai dicendo, ci sono anche, a me non è male, la miglio influencer invece della miglio gioventù in questo caso. E non è male perché quindi mi dicevi che ci sono anche appunto dei giovani artigiani, giovani che hanno a che fare con il meditoli che riescono a comunicarla questa cosa. E come reagisce appunto la rete, come reagiscono gli altri giovani? Ma sono diventate un po' delle rock star quasi, perché hanno reso questo fenomeno molto pop e piace, piace molto. Vediamo anche sui nostri canali l'artigianato è qualcosa che va di moda. In realtà noi abbiamo fatto una campagna che diceva l'artigiano non va di moda, invece in realtà va di moda sui canali social, in particolare su TikTok. E questo può segnare con, secondo noi, una possibilità di interessamento da parte delle nuove generazioni. Oltre che sul palco ci saranno poi invece quelli che a tutti gli effetti sono esponenti principali da appunto Fabio Novembre, il famoso designer proprio nel campo del design. Ci sarà Giorfano Calza, DGCDS per il settore della moda. Ci saranno anche ospiti nel settore della ristorazione dell'agroalimentare, come Rossella Ceria per esempio, da Vittorio, il ristorante Tre Salle Michelin. Insomma, un sacco di ospiti che non voglio spoilerare, ma che comunque potete già vedere sul sito. Ha fatto un nome a caso, Fabio Novembre, che non è proprio a casissimo, perché è un designer pazzesco. Per chi non lo sapesse, è quello che ha fatto una famosissima sedia, con una faccia, e per chi non lo capisse, non lo sapesse meglio, è quella stessa sedia che c'è nella locandina della serie Netflix di Lupin. Sì, sì, esatto. Quindi c'è giusto per farvi capire che non è proprio, siamo a Milano, si può dire, non è l'ultimo Pirla arrivato, cioè è proprio una roba di quelle, e questo è solo uno di quelli che verranno a raccontare, a parlare del Made in Italy. Prima dicevi com'è che era lo slogan che avete fatto sull'artigiano? C'è questo slogan che è in giro un po' per tutta Milano, sui cartelloni, che è l'artigiano non va di moda. Non va di moda, ok. Io ne avevo pensato già un altro per la prossima edizione, non è un paese per artigiani. Allora. Mi piaccio che lo regalo così, sono le cose che mi scrivo sui miei appunti, e mi faccio queste cose, dovevo dirla, non l'ho scritta, non potevo non dirla. Prima diciamo appunto di questo, però in diminuzione. Mi hanno detto che un po' le cause sono anche il fatto che i giovani non... In realtà non è che non si affascinano queste cose, perché poi in realtà mi hanno detto che poi quando glielo racconti si affascinano. Esattamente. Non sanno neanche che esiste. È quello il problema. Altre cause quali possono essere invece di questa diminuzione di artigiani, soprattutto appunto nelle regioni del nord e soprattutto in una città come Milano? Beh, sicuramente è un problema anche, come dicevo prima, legato molto all'orientamento, legato anche alla formazione che si fa, per cui ecco da questo punto di vista noi possiamo fare... non possiamo fare granché perché è più in mano alle scuole o comunque a chi ne compete. Noi ecco possiamo parlare di comunicazione, per cui di come questo viene comunicato ai giovani e come farli interessare. E il fatto che Celesa Italiana è resa a comunicare bene tutto questo, lo dicono anche i vostri numeri, perché stiamo parlando di più di 500.000 iscritti alla vostra community. Ormai quanti anni è che comunitate? In realtà da pochi anni, perché siamo attivi da circa due anni e in due anni comunque siamo riusciti a creare un interesse comune per questo tipo di argomenti, per quello che sono le eccellenze italiane. Abbiamo una community che ci segue anche negli eventi offline, per cui significa che c'è molto attaccamento se viene spiegato, divulgato nel modo giusto e se sono in particolare giovani che parlano con questi nuovi linguaggi appunto sui social network, possono fare veramente interessare anche i ragazzi. Noi giornalisti ne diciamo tante, il più delle volte sono anche sbagliate. Qual è quella cosa che un po' ti fa arrabbiare quando parliamo del Made in Italy, che dici ma non è così, spiegatela bene, perché non è proprio così. C'è una cosa che un po' dici ma no, viene raccontata male, raccontatela meglio. Sì, diciamo che quasi sempre quello che si fa è andare a sbattere sempre sui stessi stereotipi dell'Italia, per cui si va sempre sul cibo, che comunque rimane un'eccellenza, però ci sono tantissimi campi in cui il Made in Italy e l'Italia sono un'eccellenza. Parlavo prima appunto del nostro format Pillule di Made in Italy, che fa vedere quante aziende ci sono in Italia, in realtà in tantissimi settori che fanno veramente la differenza a livello mondiale, eppure si parla sempre del cibo, oppure si fa un racconto negativo soprattutto anche dell'Italia sui giornali e online. Ecco, ogni tanto anche evidenziare qualcosa di positivo non è male. Non sarebbe male, bene bene, allora prendo appunti per le prossime volte. Giovanni, ricordacelo all'appuntamento di sabato. L'appuntamento è sabato alle 9 in Talent Garden Calabiana, Milano, e ci sarà il Festival del Made in Italy, i biglietti sono su festivaldelmadeinitaly.com Festivaldelmadeinitaly.com, lì avete tutte le informazioni, il programma, vedrete i nomi di chi ci sarà, oltre a fare un novembre saranno tanti altri, anche ci saranno, e potete appunto anche acquistare i biglietti, quindi insomma andate sul sito, c'è tutto scritto lì, quindi non si scappa. Bene, grazie Giovanni, buon festival allora. Grazie mille. Ci si vede allora sabato al Talent Garden Calabiana, grazie davvero per questa storia che ci ha portato e per le eccellenze che raccontate, che portate anche a conoscenza appunto delle nuove generazioni, così che questo famoso dato, che insomma ci ha lasciato un po' così, persi 300.000 artigiani dal 2012 al 2022, magari riusciamo a invertire questa rotta, non sarebbe niente niente male. E allora andiamo avanti, grazie mille Giovanni, andiamo avanti con la musica, prima di salutarci tutti quanti qui alle 8.40 su Crystal Radio, questo è Good Morning Milano, tra le eccellenze comunque ci sono anche le industrie, le industrie chimiche, devo trovare un gancio per la prossima canzone Giovanni, che è Cesare Cremonini con chimica, ma non credo che parlasse di quello, quindi era un po' difficile effettivamente, ascoltatevi lui che invece è molto meglio delle cose che dico io dai. Cesare Cremonini, chimica, grazie ancora Giovanni. Grazie a te.